For You Vasto, marche a volontà, For You Vasto, sconti e qualità, moda casual. E non dimenticare l'indirizzo, For You a Vasto è in via 4 novembre. Franco Battiato da oltre un mese ai primissimi posti della Heat Parade il 7 agosto alle ore 21.30 allo Stadio Aragona. C'è un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose. Sabato 7 agosto, ore 21.30, Battiato in concerto allo Stadio Aragona di Vasto. Il concerto è organizzato da Studio 99 di Vasto. Il concerto è un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose. Grazie a tutti. Grazie a tutti.